Parliamo adesso di una disciplina sportiva in cui la Liguria è tradizionalmente sugli scudi. Quest'estate ben sette atleti sono stati convocati in nazionale per la scuola di Tecvundo Genova del maestro Pietro Fugazza. Maestro Pietro Fugazza, scuola Tecvundo Genova, siamo quasi alla fine dell'estate e dal punto di vista sportivo è stata un'estate decisamente soddisfacente per voi. Dire che è stata un'estate mondiale, abbiamo avuto un'estate molto impegnata su tutti i fronti perché avevamo i mondiali in Corea con la squadra dimostrativa dove i nostri due under 17, Manuele Fugazza e Federico Serain, hanno vinto i mondiali, sono campioni del mondo. È stata una grandissima sorpresa perché in Corea, che è la madre e padre del Tecvundo, sono stati veramente molto molto bravi. E poi avevamo ancora gli europei juniors con Riccardo Pastore e Anna Fossaceca, al loro primo anno junior, non sono riusciti a centrare medaglia, ma ricordiamo che Anna Fossaceca è riduce dal bronzo agli europei cadetti, quindi sono Riccardo Pastore, ha vinto i multigame, quindi sono atleti di altissimo livello a livello juniors, ha la loro prima esperienza nella categoria. E poi i mondiali cadetti in Bosnia e Sarajevo dovevamo tre atleti, Lucrezia Maloberti, Ludovica Fugazza e Virginia Lampis. Virginia Lampis, già bronzo europeo l'anno scorso, ha vinto il titolo mondiale sbaragliando tutte le avversarie, quindi tre campioni del mondo in una stagione, in un'estate, è un risultato irripetibile, però noi ci proveremo a fare meglio. Prima Ligure, se non sbaglio, a vincere comunque un oro a questi livelli, Under 15 o mi sbaglio? Beh, nel combattimento sì, è la prima Ligure e quindi lei rimarrà, diciamo, la prima, la nostra formica atomica. Come primi sono i nostri due freestyler, è una specialità nuova, quindi non è ancora sviluppata molto in Europa, lo è molto più in Oriente, però già sono a buon punto. Mentre i senior c'era un grosso divario con i coreani, negli Under 17 invece sono riusciti a vincere, vuol dire che stiamo lavorando bene, abbiamo buone prospettive per il futuro. A proposito di futuro, ora cosa preparerete? Facciamo un po' il punto della situazione guardando avanti. La stagione è stata ricca perché siamo campioni d'Italia nei femminili cadetti, campioni d'Italia nei junior femminili e adesso avremo a novembre i campionati italiani senior. Speriamo di centrare il triplete nei femminili e di fare bene anche nei maschili. Poi quest'anno ricorre anche il trentesimo anniversario della Scuola Taekwondo Genova, quindi faremo anche una bella festa al Portantico, dove ci saranno un sacco di testimonial dei nostri campioni del mondo e anche il maestro Park Jungil, che arriva da Roma, è stato praticamente quello che ha portato il Taekwondo in Italia, cintura nera nono da, quindi avremo anche lui come ospite d'onore.